Perché non sono uno psicologo... Ma sarà vero che Putin non risponde al telefono a Berlusconi? Non lo so, questo francamente... C'era, circola una notizia che poi proviamo a voce a dire che avrei provato a chiamare... Era un'altra epoca, sai che oggi Berlusconi si è avuto... Si è? Un matrimonio simbolico Ah, simbolico Tu anche hai matrimonio simbolici? Che cos'è Casini? Non lo so, non lo so No, ma come? Un grande esperto di matrimonio? Eh beh, ho capito No, su quelli simbolici non ci sono ancora di là Anche lei fa quelli veri Allora, Maurizio Beh, facevo, facevo, scusa Non esiste nel nostro ordinamento il matrimonio simbolico Questo per esempio, siccome si parla di propaganda Scusate, non vorremmo passare dal sacro al profano Però le parole costruiscono la realtà, no? Allora, non esistono nel nostro ordinamento Vabbè, stavamo parlando di cose Sì, 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 ma per questo Torniamo alla propaganda di Putin Direttore Polinari La domanda...